Arrivare in provincia di Milano e trovare una squadra che si chiama Bova Juniors, una squadra di calcio che porta il nome di Bova Marina, però ci dovete spiegare la storia, infatti siamo qui con il presidente Roberto Rodai e con il mister Pierpaolo Vadalà, però la parola al presidente. Buongiorno a tutti, intanto grazie a Silvio per questo incontro, questa squadra nasce proprio per un volere di noi giovani che purtroppo lavorando lontano dalla nostra terra ci troviamo a 1400 km e abbiamo così creato un gruppo, chiamiamolo di amici, che per stare insieme e condividere momenti sportivi e di amicizia abbiamo così creato questa squadra con il nome di Bova Juniors proprio per ricordare il nostro paese di origine. Questa squadra nasce quasi per scherzo, tanto per, come si dice, per passarsi un po' il tempo. Il tempo intanto passa e proprio così ci accorgiamo che questa squadra diventa competitiva fino al punto di fare un campionato di CSI e vincerlo pure contro altre squadre molto competitive. Squadre che vi hanno dato filo da torcere soprattutto quest'anno, ma ce l'avete fatta, avete vinto e siete arrivati in Open B. Sì, Open B del CSI. Buonasera a tutti, anche da parte mia. E niente, ci accingiamo quindi dopo la bella vittoria, secondo me, del campionato dell'anno scorso molto meritato. Ci accingiamo, dicevo, a affrontare quest'altro campionato sperando di continuare a far bene come, secondo me, stiamo facendo in questi, diciamo, due anni di vita della società. Società che ricordiamo è una società di calcio a 5, ma calcio a 7, perdonami. Ma che differenza c'è tra il calcio a 7, il calcio a 11 e quindi a questo punto anche il calcio a 5? Ma il calcio a 7, diciamo, è una, come si dice, una vetrina, chiamiamola così, che è, diciamo, nata, creata in Lombardia. Quindi è una via di mezzo tra proprio il calcio, tra il calcio a 5 e il calcio a 11. Ecco, tempi e spazi, diciamo, più o meno ridotti, ma, come dire, per far capire alle persone, c'è una via di mezzo proprio, ecco, tra il calcio a 5 e il calcio a 11. Un calcio che non sia troppo piccolo, ma nemmeno troppo grande. E la formazione quest'anno, chi vedrà in campo solo ragazzi originari di Bova Marino? C'è qualcuno trapiantato al nord o meglio autoctono del nord? No, ci sono altri ragazzi, come sempre, che fanno parte della Bova Juniors, che non sono, diciamo, originari di Bova Marina, ma che sono alcuni di Melito Portosalvo, altri della provincia di Crotone, diciamo, Marazzita, che è un punto fermo della nostra squadra, che è della provincia di Crotone. Ecco, il più a nord di tutti è lui, ma se no siamo tutti ragazzi per lo più bovesi e poi di Melito è lui della provincia di Crotone. E come vi accolgono le squadre del nord quando vedono già questo nome un po' particolare e poi quando magari vi sentono anche parlare in dialetto tra di voi mentre giocate in campo? Allora, questa è una cosa molto bella, come si dice, perché comunque ci distinguiamo anche dalle altre squadre, prettamente del nord, dove tutti i ragazzi, alla fine c'è qualcuno che abbiamo conosciuto in questa esperienza, che è originario anche delle nostre zone, ma che è nato e cresciuto lì. Diciamo che molte volte abbiamo, in molte occasioni, ci è capitato di ricevere delle domande simpatiche, tipo, perché ci vedono che parliamo comunque diversamente tra di noi, quindi capiscono che noi siamo persone trapiantate proprio al nord. Diciamo degli stranieri in terra straniera, anche se così non è. No, così non dovrebbe essere. Poi c'è chi ti vede in un modo piacevole e simpatico, chi ci è capitato anche di avere avuto a che fare con persone che ti etichettano come gente poco per bene. Come si suol dire, la mamma dell'imbecille è sempre incinta, ma questo lo sapevamo. Voglio anche precisare che noi abbiamo sempre dimostrato il contrario, poiché siamo delle persone di carattere, delle persone soprattutto alle quali non manca l'educazione, e abbiamo dimostrato serietà e sportività in campo. Quindi, Presidente, un'ultima domanda. Qui a Bova Marina l'amministrazione comunale ha voluto tributarvi un riconoscimento, sia per essere arrivati in Open B, che per il vostro messaggio sociale che portate al di fuori di Bova Marina, e quindi proprio il nome e la bellezza di questo paese che arriva al nord, e quindi il vostro attaccamento a questa città. E Bova Marina questo ve lo riconosce. Allora, noi abbiamo avuto un incontro con il Sindaco, il quale ci ha premiati, il quale ha specificato, al di là delle nostre capacità sportive, quindi in campo, il fatto che siamo una Bova Marina lontana, che quindi rappresentiamo questo nostro paese con tanti giovani che vivono fuori, e quindi l'opportunità di creare un rapporto tra i bovesi vicini e i bovesi lontani attraverso una squadra di calcio. In più volevo anche precisare, ringraziando sempre questa amministrazione, la quale ci ha promesso una festa a dicembre, quando saremo qui, in modo da poter ricordare ancora chi, come me, come il nostro mister, è dovuto andare via da questo paese per problemi lavorativi. Quindi è un modo per ritrovarsi e per ricordare sempre che il nome di Bova Marina è sempre alto anche quando siamo fuori. E quindi dopo questi risultati ottenuti, è giusto anche fare, mister, dei ringraziamenti a tutto lo staff che vi segue, non solo? Sì, certo. Mi preme ringraziare soprattutto gli altri componenti della dirigenza che non sono presenti qui con noi, quindi Paolo Spinella e il DS Vincenzo Menite per il loro lavoro e la loro partecipazione al nostro progetto. I calciatori che compongono la droga, voglio dire che hanno dimostrato in questi anni impegno e dedizione, e soprattutto anche i nostri tifosi, sia vicini che ci seguono in Lombardia, ma anche quelli lontani che sui social network fanno sentire la loro vicinanza. Ecco, grazie a tutti. Speriamo di continuare a darvi soddisfazioni. E quindi in bocca al lupo alla Bova Universe. Crepe il lupo, si dice. Grazie. In puntini puntini. Alla balena, però. Ma se vogliamo lo possiamo anche dire, perché non ci sono problemi, tanto ormai è una parola di uso comune. Quindi a questo punto diciamola. Meglio in cura alla balena.